Un'altra sezione del lavoro che oggi è praticamente sconosciuta ai giovani è quello della ripresa. Quando noi realizzavamo un film si facevano i disegni su fogli di carta e poi venivano uno per uno ricalcati su dei fogli trasparenti, i famosi rodovetri. Questi rodovetri poi venivano capovolti e sul retro si coloravano le giacche, i pantaloni, eccetera. Quindi il foglio da questa parte mostrava il delineo e dall'altra parte aveva la coloritura. Chiaramente dove c'era il delineo si vedeva il colore come su una vetrofania, piatto, assolutamente uguale, anche se si facevano cento disegni il colore era sempre perfettamente uguale e dava un bellissimo risultato. Ecco, questi fogli vengono poi sovrapposti alla scenografia che viene disegnata invece su carta e su cartone con tutte le tecnologie possibili, quindi colin, tempere, acquarelli, quello che si vuole. Sovrapponendo il foglio col personaggio alla scenografia si ha la scena completa. Ecco, per poter arrivare su pellicola occorre un processo di ripresa che allora noi facevamo con una grossa macchina, veramente grossa, che si chiamava la verticale, in cui c'era la pellicola 35 mm. Questa macchina era appoggiata e saliva o scendeva verticalmente lungo una colonna che era contro un muro. Sotto questa macchina giaceva un piano, una specie di, chiamiamola scrivania, su cui si mettevano i fogli. Allora, voi dovete tenere presente che un secondo di film al cinema sono 24 fotogrammi, quindi bisogna fare 24 fotografie diverse, con disegni sempre diversi per avere l'illusione del movimento. Quindi nel primo disegno la mano sarà in questa posizione, nel secondo sarà in questa, nel terzo sarà in questa e voi vedrete la mano muovere alla fine. Allora, noi avevamo un tecnico che veniva da tutt'altro lavoro, lavorava nel campo dell'elettricità, ha accettato la sfida di venire nel nostro studio ed era non giovane, devo dire, quando ha fatto il passo, quindi essendo già sposato e con figli ha avuto anche un bel coraggio, è venuto da noi e ha tentato di iniziare questo lavoro come operatore. Il nostro gabinetto bioelettronico è riuscito a creare collaboratori con otto dita per mano. Meraviglioso! Naturalmente avevamo delle macchine, le macchine nostre verticali che non esistevano in commercio, bisognava costruirsele e io ho avuto una grandissima fortuna di avere mio padre che era veramente un genio, mi ha aiutato tantissimo, che ha progettato, ha disegnato queste macchine che io gli raccontavo, perché io le avevo viste magari in uno studio a Londra o in uno studio in Francia quando andavo ai festival e andavo a visitare gli studi, gliele descrivevo sommariamente e lui, sapendo quel che volevo e quello che gli raccontavo, ha praticamente progettato queste macchine che poi questo Luciano Marzetti ha costruito. Io sono arrivato alla Bozzetto per fare l'impianto elettrico della macchina di ripresa di animazione e mentre ero lì a fare il lavoro e Bruno mi ha insegnato a fare anche le riprese, dove mi sono veramente entusiasmato. Quindi eravamo in una situazione di macchine artigianali fatte in casa che però hanno prodotto lungometraggi e hanno funzionato e funzionano ancora oggi benissimo. Questo operatore praticamente ha imparato totalmente il mestiere da quando ha iniziato i primi film, ha cominciato a capire cosa significava fare le dissolvenze incrociate, le carrellate, i movimenti di macchina, tutte cose che non posso spiegare perché sono un po' complesse nei dettagli, ma che alla fine producono, generano una scena piacevole o meno, con degli effetti speciali o meno. Oggi tutto questo non esiste più, oggi siamo passati al computer e i disegni una volta realizzati su carta vengono scannerizzati, passati sul computer, colorati e praticamente sono già pronti per essere visti in movimento. Noi avevamo questo passaggio in più che ha costituito un grande lavoro e ancora oggi ho una verticale in ufficio che è veramente un pezzo da museo. Allora la verticale l'ha fatta oltre che con la cinepresa che fa praticamente, si chiama passo uno perché fa un fotogramma alla volta, è fatta con la cinepresa su una piattaforma che ha la possibilità di muoversi verticalmente, andando in alto o in basso, per fare le carellate di avvicinamento o di allontanamento. Poi sul piano di lavoro dove si mettono i disegni c'è la possibilità di muovere i fondali come se fosse una panoramica e dà l'idea che il personaggio cammina oppure la panoramica in se stesso per vedere da un campo o l'altro. In più c'è la possibilità di avere una luce per trasparenza, per certi effetti, con una lampada sotto, sotto il banco di lavoro. Il banco di lavoro dove il pressino, praticamente dove venivano pressati i disegni, c'era un registro basso e un registro alto, per cui i disegni potevano essere indipendenti e muoverli indipendentemente uno dall'altro. I livelli massimi che si poteva ottenere per non sciupare il colore era un livello di tre rodovetri, però si arrivava anche a sei per certe esigenze. Però il livello di tre rodovetri sono il colore che cominciava a marcire e lì io battagliavo per avere possibilmente non più di tre livelli.